Buongiorno a tutti, buona domenica e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo di pensioni di dicembre 2024. Vediamo nel dettaglio gli aumenti che ci saranno sulla tredicesima e allo stesso tempo anche la tabella per quanto riguarda la quattordicesima 2024 per chi la riceverà a dicembre. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace all'interno del video per continuare a supportarci. Grazie. Come detto nel video dell'altro giorno dicembre sarà un mese assai ricco per i pensionati per via della tredicesima e la quattordicesima per chi la riceverà e allo stesso modo anche per chi riceverà il bonus tredicesima pari a 155 euro di cui abbiamo già parlato dettagliatamente in un precedente video e quindi non ci dilunghiamo a rispiegarlo. Passiamo quindi alla tredicesima che anch'essa ha avuto un incremento e l'importo di quest'ultima ormai è molto simile al ratio mensile della pensione. Questo perché dal primo gennaio 2021 come sappiamo la tassazione IRPEF è stata uniformata sulle 13 mensilità quindi il ratio della tredicesima e quello della pensione ormai coincidono. L'importo della tredicesima per l'appunto corrisponde a quello del ratio mensile ma solo nel caso in cui non sia il primo anno di pensione. Infatti se si è pensionati da meno di un anno la tredicesima si calcola nel seguente modo ovvero moltiplicando l'importo lordo mensile per il numero di mesi effettivi di pensionamento. Una volta ottenuto il risultato bisogna poi dividerlo per 12. Ora vediamo qualche esempio di tredicesima 2024 aggiungendoci quindi la percentuale di aumento del 5,4 per cento della rivalutazione. Quindi se l'anno scorso ricevevate 1000 euro di tredicesima quest'anno applicandoci il 5,4 per cento salirà a 1054 euro. Lo stesso anche per una tredicesima da 1500 euro che salirà con il più 5,4 per cento a 1581 euro. Una tredicesima di 2000 euro ricevuti l'anno scorso ovviamente lordi quest'anno salirà a 2108 mentre per chi riceveva una tredicesima di 2500 euro. Il nuovo importo sarà 2614 euro. Passiamo ora invece al discorso quattordicesima. Come visto nel video dell'altro ieri la quattordicesima verrà ricevuta dai pensionati a dicembre solo se hanno compiuto il 64esimo anno di età quest'anno dopo il 30 giugno mentre gli altri pensionati che l'hanno compiuti prima del 30 giugno hanno già ricevuto la quattordicesima nel ratio di luglio. L'importo erogato va da un minimo di 336 euro fino a un massimo di 655 euro e vediamo quindi la tabella. Se si hanno anni di contribuzione per i lavoratori dipendenti fino a 15 mentre anni di contribuzione per i lavoratori autonomi fino a 18 e la pensione fino a 1,5 volte il trattamento minimo per il 2024 ovvero 11.672,89 euro la quattordicesima corrisponderà a 437 euro. Mentre se si ha una pensione da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo per il 2024 a 15.563,86 euro la quattordicesima in questo caso sarà di 336 euro. Se si hanno anni di contribuzione sempre parlando di lavoro dipendente tra i 15 e 25 anni e anni di contribuzione per il lavoro autonomo invece tra 18 e 28 anni e una pensione fino a 1,5 volte il trattamento minimo per il 2024 ovvero sempre 11.672,89 euro in questo caso la quattordicesima sarà di 546 euro. Se si hanno invece pensioni da 1,5 a 2 volte il trattamento minimo per il 2024 ovvero 15.536,86 euro in questo caso sarà di 420 euro. Passiamo all'ultimo esempio ovvero anni di contribuzione per i lavoratori dipendenti oltre 25 anni e anni di contribuzione per i lavoratori autonomi oltre 28 anni. In questo caso in entrambi i casi se si ha una pensione fino a 1,5 volte il trattamento minimo ovvero per il 2024 11.672,89 euro la quattordicesima raggiungerà il tetto massimo di 655 euro mentre se si ha una pensione da 1,5 volte due volte il trattamento minimo per il 2024 pari a 15.563,86 euro la quattordicesima in questo caso scenderà a 504 euro. Queste dunque le cifre per quanto riguarda la tredicesima e la quattordicesima 2024. Se avete dubbi o domande come sempre fatecelo sapere qui sotto nei commenti del video. Grazie